Conto alla rovescia per gli 8.000 pesaresi che prenderanno parte alla cerimonia inaugurale di Pesaro Capitale della Cultura 2024 nella giornata di sabato 20 gennaio. Il Comune di Pesaro vuole che sia una giornata di festa della città pensata per tutte le generazioni e tutti i gusti. Rigide le modalità d'accesso alla Vitrifrigo Arena considerando la presenza nel palasport del Capo dello Stato Sergio Mattarella. L'apertura Cancelli inizierà alle ore 8 con accesso alla Vitrifrigo Arena consentito fino alle 10. I cittadini dovranno presentarsi muniti di tagliando digitale o cartaceo e dovranno obbligatoriamente esibire il documento di identità. Per agevolare i controlli e favorire un accesso ordinato senza congestionare gli ingressi si consiglia di raggiungere il palazzetto in anticipo rispetto agli orari di chiusura Cancelli. Per arrivare alla Vitrifrigo Arena sarà attivo un servizio navetta a partire dalle 8.30 con corsi ogni 15 minuti che partiranno dal centro storico, dal parcheggio San Decenzio, da Piazzale della Libertà e da Viale Trieste. Nel caso i cittadini in possesso di biglietto fossero impossibilitati a partecipare alla cerimonia e volessero liberare il tagliando, occorre per chi l'ha ottenuto tramite Viva Ticket scrivere a biglietteriechiocciolaamat.marche.it indicando nell'oggetto della mail rinuncia cerimonia inaugurale Pesero 2024 e indicando i dati del biglietto. Chi l'ha ritirato nella biglietteria del teatro Rossini o presso tipico.tips dovrà restituirlo negli stessi luoghi. All'esterno della Vitrifigo Arena sarà attrezzata una vasta area food che durerà fino a tarda notte, perché dopo la cerimonia inaugurale del mattino alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si canterà dalla 17 con Max Gazet, si ballerà con l'orchestra di Mirko Casadei dalle 20 e poi la grande festa per i più giovani Once a Year con Rosa Chemi con le 17 dalle 23 con ingresso a pagamento. Grazie! Grazie.